l'artista esistenzialista buona serata a tutti scintilla una stella di nome drosilla quindi un po un gioco di parole con la rima baciata il riferimento specifico è drosilla foer che sarà la coprotagonista a fianco ad amadeus al festival e si parla soltanto di lei nel senso che c'era fredilli c'è anche ornella muti però poi diciamo il personaggio ad hoc e drosilla foer già luca gori cantante attore pittore quant'altro ha creato questo personaggio diciamo ad hoc drosilla foer sarà ricca nobile donna dei modi gentili cordiale gioviale quant'altro acculturata preparata bonton e l'ha portato un po dappertutto insomma questo entravesti e per certi versi io l'ho vista anche spesso e volentieri da costanzo quindi un modo di porsi alquanto particolare già tra l'altro se non sbaglia anche ha partecipato a un film mi sembra di osbede quindi ripeto dobbiamo fare anche i complimenti a giallo gorgori perché poi ripeto ci permette di anche di abbattere queste differenze di un po l'identità di genere e anche preconcetti stereotipi e quant'altro dandoci un pochettino la possibilità di vedere tante piccole cose anche che ci attornino quotidianamente in un modo diverso all'artista esistenzialista buona giornata a tutti